Il coinvolgimento in questo modo con la scuola che viene nelle strutture dell'università non mi era mai capitato, quindi è una roba penso molto interessante e come ho detto prima, credo che ovviamente gli dovremo far vedere quello che facciamo qua dentro, quindi la geologia ma anche l'ambiente, il rispetto del territorio che va benissimo. Però in realtà forse oltre a questa sfida c'è un'altra sfida più grande che è quella di aprire la mente a questi ragazzi, a quello che può essere lo studio che potrebbe aspettarli finita la scuola, quindi mi riferisco in generale all'università, poi non tutti dovranno fare questo tipo di materie, ma intanto comunque vedono un campus, vedono una biblioteca, frequentano ricercatori, professori dell'università, infatti l'idea è anche quella di coinvolgere dei professori che verranno spero anche da Siena, insomma, esperti su vari argomenti che come dicevo prima stiamo concordando, abbiamo già in parte concordato con professori di scienze e di fisica dei licei.